Sono titolare di questo studio da circa 30 anni, operiamo in Italia e all'estero e naturalmente facciamo uno sviluppo di quello che è la progettazione pura, tendenzialmente. Con Barra e Barra abbiamo sviluppato sei progetti, di cui uno di questi sei è il loro ufficio. Il lavoro con la Barra e Barra ci ha permesso di arrivare ad affrontare per noi nuove tematiche, quali le progettazioni di edifici a basso consumo energetico. Questo per noi ovviamente è stato motivo di arricchimento e soddisfazione a livello professionale. Un altro dei valori che io ho sempre considerato nel nostro rapporto con Barra e Barra è quello che a noi personalmente hanno sempre permesso di essere propositivi in termini progettuali, quindi non hanno mai cercato di modificare quello che per noi era il discorso estetico progettuale e quindi il mio rapporto non può che essere più che positivo nei loro confronti.